Leonardo Silva Revisore La parte più difficile di un talk è parlare della propria storia. Scavare nel proprio passato alla ricerca di quelle motivazioni profonde che ci spingono ad agire ogni giorno. Quelle motivazioni profonde che determinano le nostre decisioni e che fanno le nostre passioni tale. Diciamo che io questa mia ricerca l'ho fatta. Ed è iniziata questa mia passione per la chimica con un desiderio, un piccolo sogno nel cassetto. Era quello di fare il mago. Un po' me ne vergogno. Però perché volevo fare il mago? Volevo fare il mago perché volevo sorprendere la gente. Volevo sorprenderla con qualcosa di inaspettato, unico e originale. Mi sono però presto reso conto che comunque non serve alcuna bacchetta magica, alcuna magia per sorprendere la gente. Ed è così che quindi piano piano ho imparato che si possa sorprendere la gente anche con la scienza. È quello che ho fatto negli ultimi cinque anni della mia vita. Cinque anni in cui mi sono saltato circa 500 ore di interrogazioni per andare in laboratorio. Cosa facciamo in laboratorio? Oltre a cercare di fuggire dal mio terrore che è la filosofia, mi sono impegnato nei cosiddetti open day. Gli open day sono degli eventi in cui la scuola si autopromuove, quindi immaginate frotte di bambini che entrano ed escono dalla scuola. Il mio posto è naturalmente nel laboratorio. Ed è lì che quindi mi sono reso conto di quanto sia importante e soddisfacente sorprendere una persona. Vedere la faccia, il volto di un bambino spararti questo sorriso dal nulla, dalla più completa magari noia o tristezza alla più semplice variazione di colore dà una soddisfazione immensa. Un giorno però, alla fine di un open day, dopo aver spiegato, presentato reazioni chimiche a circa, credo, 1200 ragazzi, mi sono seduto su una sedia, stremato, e ho deciso di fare un esperimento diverso dal solito. Mi sono guardato attorno, semplicemente, ed è l'esperimento che vorrei fare con voi oggi. Voglio provare a ridefinire la chimica, quindi a liberare la chimica da quella gabbia che è costituita dalla sua definizione, ossia la scienza che studia le trasformazioni della materia. La chimica non è solo questo, ed è il mio obiettivo di questa sera. Ora avrei bisogno però che tutti facciate una cosa. Ho bisogno che tutti voi chiudiate gli occhi. Chiudetevi. Ispirate. Espirate. Cercate di ricordarvi il periodo di quando eravate bambini. Un periodo spensierato, in cui non c'era la preoccupazione di andare a lavoro, di scarrozzare figli. Se ne avete in macchina, c'erano i vostri genitori a portarvi per dove volevate. Adesso riaprite gli occhi e guardatevi attorno. Cosa vedete? Amici? Parenti? Conoscenti? Gente che forse oggi avete visto per la prima volta, a me compreso. Ma non è solo questo, vero? Ci sono anche sedie, palloncini, travi d'acciaio, vetri di colori. Ecco, vi sembrerà strano, ma se anziché guardare, osservaste quello che vi circonda, potreste verificare, potreste trovare una connessione tra tutto quello che vedete. Tra voi, me, tutto quello che trovate attorno è questo tavolo. È tutto chimica. Pensateci bene. Non so, adesso avete già mangiato, quindi nel caso in cui avete ancora fame, quella è chimica. Oppure se avete magari un po' di sete per dire, l'acqua che voi bevete non è altro che chimica. Ecco, però, oppure anche, ad esempio, diciamo che gli esempi sono infiniti. Una delle reazioni più complesse, però, è l'amore. Pensateci. Quelle farfalle nello stomaco, quella... Non riuscite più a pensare a nulla, non riuscite a spiccicare bocca davanti alla persona amata. In quel momento, in voi stanno avvenendo migliaia di reazioni chimiche in contemporanea. Forse, una sequenza di reazioni chimiche tanto complesse da non poter essere studiata a tutti gli effetti. Il che spiegherebbe anche perché io non mi sia ancora trovato una ragazza nella mia vita, quindi... Ora, però, non pensate che questo sia partito nell'ultimo secolo. E' questo che sto dicendo, questo modo di vedere il mondo, questo modo di guardarci attorno, con questo filtro davanti agli occhi che è la chimica. E' il frutto di un percorso evolutivo iniziato due milioni e cinquecentomila anni fa. Sto parlando, quindi, del periodo più o meno del Paleolitico. Diciamo che l'uomo primitivo, per quanto si possa appunto considerare primitivo, in realtà fece una delle più grandiose scoperte della storia dell'umanità. Una scoperta che forse noi oggi diamo per scontata, ma che al suo tempo poteva fare la differenza tra la vita e la morte. E guardando questa scatola di fiammifere, ormai avete già capito che sto parlando della scoperta del fuoco. Riuscite a immaginare una società senza il fuoco? E' semplice. Togliete qualsiasi rivoluzione industriale, rivoluzione dei materiali, rivoluzione dei trasporti, togliete i vestiti che avete addosso, togliete le sedie su cui siete seduti, togliete tutto quello che vedete e sostituitelo con la pietra. Saremmo fermi all'età della pietra senza la scoperta del fuoco. Però, naturalmente, non possiamo considerare quell'uomo già un chimico. Era infatti un uomo spaventato dalla realtà che lo circondava, non riusciva a comprendere bene i fenomeni della natura, ed è per questo quindi che la sua mente, che evolvendosi, inizia ad essere turbata da degli interrogativi quali chi sono io, da dove vengo, qual è il mio scopo al mondo, perché la natura funziona così. Ecco che viene forgiato quel concetto di divino. Vengono forgiate, vengono create migliaia e migliaia di miti e leggende su dei, figli di dei, zii di dei, possiamo fare tutta la parentela degli dei. Però ecco che nella Grecia del V secolo a.C., un filosofo di nome Democrito, colui che il mondo a caso pone, ebbe un'intuizione geniale. Osservando infatti il pulviscolo atmosferico, quella polvere sospesa nell'aria attraverso i raggi del sole, ipotizzò un mondo costituito da atomi. Nel V secolo a.C., eh? Cioè non mi risulta che avessero rivelatori di particelle o cose simili, quindi lasciamo stare, va? Ecco, quindi potete immaginare, per questa è una dimostrazione della potenza dell'intelletto umano. Democrito, le sue teorie verranno però sbeffeggiate nel corso dei secoli e soprattutto dai suoi contemporanei, che erano ancora legati a quel concetto di divino. Le sue ricerche e il lavoro dei suoi studi verranno però ripresi nel XVII secolo dagli alchimisti. I primi veri chimici della storia. E posso parlare di primi veri chimici perché adottavano il metodo scientifico. Osservavano, teorizzavano, sperimentavano. Certo, non avranno trovato il metodo per trasmutare il piombo in oro, non avranno trovato, che so, la pietra filosofale, ma, ecco, hanno scoperto, certe volte casualmente, certe volte intenzionalmente, tutti gli elementi della tavola periodica. Tutti gli elementi che costituiscono noi e il mondo che ci circonda. Tutti quegli elementi che consentono a me di essere in piedi qui, su questo palco, a parlarvi di chimica. Ora, questa concezione di chimica, come vi ho già detto, non si può imparare sui libri. La chimica, infatti, rimarrà, per i libri di testo, sempre quella scienza che studia le trasformazioni della materia. O, tra i giovani, quella scienza che ti permette di fare milioni vendendo metanfetamina, come nella serie TV Breaking Bad. Ma, ecco, questa concezione di chimica, invece, come filo conduttore della storia, ci appare chiara solo quando facciamo un esperimento in prima persona, quando iniziamo a sostituire alla domanda che cosa è questo, che cosa è quello, la domanda perché succede questo, perché succede quello, perché la natura funziona così. Ora, quando uscirete da quella porta, quando entrerete nelle vostre macchine, quando arriverete nelle vostre case, fermatevi. Guardatevi attorno, come farebbe un bambino. Lasciatevi sorprendere anche dalla cosa più scontata, e vi si aprirà un mondo di meraviglie. Ora, il bello di questo paese dei balocchi, come mi piace definirlo, è che non esiste limite. Non esiste limite perché è tutto chimica. Tutto può essere ridotto ad una semplice equazione chimica. Quindi non esiste più il concetto di assurdo. Non esiste più il concetto di impossibile. ma invece viene introdotto il concetto di tutto è possibile. Basta fare una semplice cosa. Basta comportarsi un po' come gli alchimisti. Basta semplicemente, quindi, osservare, teorizzare e sperimentare. Va bene. Grazie. 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 Grazie.